buongiorno e bentornati sul nostro canale oggi torno a parlare di libri e ve lo faccio mostrando i quattro acquisti che ho fatto da bloodbuster a milano in via panfilo castaldi al 21 bloodbuster è un negozio molto specializzato in cinema di genere horror fantascienza anche trash cinema di genere italiano sono dvd libri t-shirt action figures insomma un piccolo gioiellino milanese per appassionati che vi consiglio di andare a vedere anche se non siete di milano o se siete in trasferta milano se siete milanesi manco a dirlo già lo conoscerete visto che seguite questo canale dunque quattro acquisti e mi sono dovuto limitare perché ne avrei comprati molti di più io mi sono concentrato sui libri ripeto ma c'è una vasta selezione anche di dvd per chi ancora usa formato dvd io guardo praticamente solo in streaming ma vi dico solo che affacciandovi a tutte le offerte che c'erano di dvd mi era quasi venuta voglia di spacchettare il lettore che ho messo via tempo fa allora quattro acquisti di cui due sono regali per sveva allora il primo è appunto regalo è libri di sangue le stelle della morte di clive barker che è il primo di libri di sangue della serie libri di sangue dello scrittore di liverpool ed è un'edizione che io non avevo mai visto io ho un'altra edizione molto più diffusa questa è una castelvecchi se non sbaglio del 2011 che non ho appunto mai visto in libreria invece il libro originale dell'84 contiene quattro racconti lunghi anzi cinque racconti lunghi che sono macelleria mobile di mezzanotte il cerliero e jack mai dire maiale sesso morte stelle in collina le città è forse il più famoso dei libri di sangue con questa copertina appunto che non ricordo e quindi credo sia anche un po da collezione non potevo esimermi dal comprarlo ce n'erano anche altri di barker comunque per chi fosse interessato poi il secondo regalo è questo saggio uno strano e affascinante formato quadrato che è mercoledì è il meglio dell'horror in tv di ieri e di oggi edizioni sagoma questo è nuovo del 2023 e anche questo è un regalo per sempre per sveva che credo spero apprezzerà ed è un piccolo compendio delle serie horror quindi qui viene citato mercoledì nel titolo ma in realtà viene dato uguale spazio a tutti i titoli citati nel volume si va da twin peaks buffy supernatural la famiglia aldams mercoledì zaffero e acciaio confini della realtà ghost whisper streghe black mirror channel zero dark dracula di netflix penny dreadful insomma ce n'è veramente tante the walking dead ed è un libro con tanto di foto schede dei vari attori delle trame locandine black summer che ho apprezzato col tempo e tanti altri fringe insomma una piccola enciclopedia ripeto in questo formato curioso molto bello molto azzeccato che mi ha fatto venire voglia tra l'altro di vedere che altro offre sagoma come come editore perché se sono tutti libri così credo che mi possano interessare quindi questo ve lo segnalo dovreste reperirlo abbastanza facilmente almeno credo mercoledì è il meglio dell'horror in tv di ieri e di oggi ripeto mercoledì è un po' una cartina di torna sole perché in realtà il romanzo parla più in generale di tutte le serie orrore fantastiche a meno le più importanti degli ultimi anni questo librone di edizione profondo rosso è zombie george romero e il cinema dei morti viventi di francesca lenzi dunque io ho già diversi saggi sulla cinematografia zombie tra cui quello di odoia che parla proprio dello zombie come essere vivente come essere non vivente però mi sono accorto di non aver non essermi mai procurato un libro ponderoso specifico su george romero e questo lo è questo è un librone ponderoso 25 euro credo anche questo abbastanza reperibile su il cinema di romero e poi c'è anche una parte dedicata all'altri film di zombie però è brevemente romero centrico si parla appunto notte dei morti viventi zombie il giorno degli zombie terra dei morti viventi diary of the dead survival of the dead e poi gli altri prima e dopo romero e c'è anche un capitolo su musica e suono la voce dell'orrore che in cui immagino verranno citati tipo i goblin che hanno fatto tanto successo hanno decretato buona parte anche del successo di di zombie ma parla anche proprio di suono non solo di colonna sonora vedo ora molto interessante poi una vera chicca una vera chicca del 78 attenzione guida il fantasinema gamma libri che non credo esista più di danilo arona dalino arona che è uno dei miei maestri di scrittura saggista ma soprattutto anche romanziere io ho parlato spesso di lui sui miei canali sul mio vecchio blog sui social questo libro è un compendio del cinema fantastico come dice il titolo che va dal vi dico dal 24 o poco prima fino più o meno al 72 e i titoli i capitoli sono altresì molto interessanti si va dai frankenstein kong poi i film della hammer quatermass gli ultracorpi maitason fungo atomico kubrick altman george romero che torna sempre spilberg michael crickton solari spin chimica d'un game rock il cinema paralo e craftiano le guerre stellari george luca si incontri avvicinati del terzo tipo e altro ed è davvero interessante questo è da collezione qui mi dice curiosamente nella breve presentazione dell'autore in questa foto di danilo che credo forse neanche lui ricorderà danilo rona 28 anni siamo nel 78 alessandrino lavorato in filosofia ha collaborato a diverse iniziative materiali nel campo della fantascienza cinematografica da due anni collabora stabilmente alla rivista robot insomma questa è davvero una chicca infatti me la tengo qui e me la leggo perché danilo ha sempre avuto cose interessanti da dire sul cinema horror già quando era molto giovane quindi questo è il bottino di cui vado fiero e presto tardi finanze permettendo tornerò a saccheggiare quello che ho visto e che oggi non mi sono potuto portare a casa però oggi sono molto soddisfatto per il resto di nuovo vi consiglio di iscrivervi al canale se volete aiutarmi metteteci un like attivate la campanella commentate seguitici anche sui social e su telegram ci ho detto buone letture e buona immaginazione perché questi sono tutti i libri dell'immaginario e del fantastico